Abbiamo istituito la SOAP in Regione Puglia, abbiamo coordinato tutto il volontariato fino ad oggi soltanto per attività di spendimento, ma ci siamo resi conto, come ho detto nelle varie giornate formative per ogni provincia, che era arrivato il momento di aumentare il know-how del volontariato. E come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto dandovi la possibilità di venire in SOAP e quindi non essere soltanto coordinati, ma coordinare la squadra che è sul territorio. E non solo, non ci siamo limitati soltanto ad attivare questa possibilità, ma abbiamo anche incrementato il supporto AIB anche convenzionando le pattuglie del volontariato che monitorava il territorio, dando la possibilità alle associazioni di essere convenzionate anche con un'attività chiamata pattugliamento. Sappiamo tutti com'è nata, perché i rincontri li abbiamo fatti, quindi non voglio ripetere ciò che è stato detto in fase di pianificazione, però è importante per noi capire, percepire la vostra conoscenza del tutto il mondo dell'AIB, che non è fatto soltanto di spegnimento degli incendi, ma anche di pianificazione, coordinamento e gestione della sala operativa. Io vi dico che dopo il secondo turno che è stato appena concluso, o si concluderà a breve, dei volontari che vengono in sala operativa in SOAP, sala operativa unificata permanente, possiamo essere più che soddisfatti. Qui abbiamo l'ingegner Bellomo e l'ingegner Pastore, che conoscete perché sicuramente se non li conoscevate di vista, avete conosciuto sicuramente al telefono per le attività di coordinamento e dell'invio delle squadre sugli incendi. Saluto anche i volontari che ci stanno seguendo da remoto, abbiamo avuto la possibilità, grazie all'ente fiera, di fare questo tipo di videoconferenza, di fare un debriefing frontale, ma anche la possibilità di farci seguire da remoto, perché chiaramente il numero dei volontari che sono stati impiegati per questa attività sono più di 100, e quindi dare la possibilità a tutti era impensabile. Quindi quello che volevo dire era questo, io ho la percezione, se volete anche una percentuale, vi dico che il buon 95% dei volontari che sono venuti in sala sono stati eccezionali, cioè abbiamo impiegato questi volontari in questa attività che mai prima erano stati dati in mano al volontariato, e abbiamo avuto ottimi risultati. Dico il 95% perché è fisiologico e naturale che alcuni volontari non è nelle corde di alcune persone, non solo dei volontari, di alcune persone, non è nelle corde le attività di coordinamento, perché queste attività non sono semplicemente messe in mano a chi studia o a chi è formato in campo, ma bisogna avere delle capacità caratteriali soprattutto, perché considerate, per chi è già venuto in SOAP, che queste attività sono attività che vengono seguite ogni giorno da circa 14 persone in SOAP, in cui si raggiungono picchi in SOAP di estremo nervosismo, diciamo così. Quindi nel momento in cui ci sono 3, 4, 5 grossi interventi in SOAP avete potuto constatare che la tensione è abbastanza alta. In quel momento non serve l'ingegnere, non serve colui che ha studiato e si è formato con gli studi, ma serve chi conosce esattamente a 360 gradi qual è il sistema AIB, in questo caso dico AIB perché stiamo parlando di SOAP, che è la sala operativa unificata permanente per gli incendi, per la gestione e coordinamento degli incendi a terra e nel caso con interventi aerei. Quindi di conseguenza è importante non solo fare questo tipo di giornate formative, spiegarvi come faremo ora, quando arriverà Lorenzo Natrella, tutto ciò che si deve andare a fare in sala, ma è importante vedere che cos'è la sala, il rapporto con gli altri enti, perché considerate che, e questo è stato utile farvi venire in SOAP, perché voi vi approcciaste in un certo modo con i carabinieri forestali, con l'ARIF e con i vigili del fuoco, tutti enti che avete avuto modo di conoscere fino a ieri sul campo, sul campo che è ancora di più davanti a un fuoco, la sensazione, l'attenzione è ancora più alta, quindi immaginatevi di affrontare in una sala operativa in cui già la situazione potrebbe essere tesa, una situazione ancora più in tensione sul terreno, sul territorio, quindi di conseguenza fare squadra in questo ambito è fondamentale, quest'anno è stato fondamentale farvi capire dove è la sala, cosa fa la sala e da chi è composto, da chi è costituito, anche se siamo partiti tardi va benissimo, perché? Perché così come ho detto per il pattugliamento, anche questa è un'attività che purtroppo quest'anno per via del Covid ci ha fatto ritardare la pianificazione, l'inizio dell'attività, se noi avessimo aspettato un altro anno, noi avremmo perso il 2020, avremmo perso la possibilità di avere già dei volontari che non sono ancora stati formati a 360 gradi, ma che nel 2021 avrebbero dovuto iniziare da capo tutto quanto. In più ci è servito farvi venire da noi in modo tale che una volta che abbiamo fatto vedere a tutti i volontari la struttura, le postazioni, i software che noi gestiamo, da gennaio 2021 possiamo già immaginare di fare una convenzione, ne stiamo parlando con il dottor Lerario che ci teneva a venire qui e portarvi i saluti, già per pensare di, spero che arriverà, ma se non arriva sappiate bene che l'emergenza Covid è purtroppo tornata preponderante nelle nostre attività, lui è d'accordo sulla possibilità di fare delle convenzioni pluriennali per fare in modo di avere una continuità nel tempo e veramente quindi terminare un processo, un percorso formativo che vi porterà a specializzarvi su queste tre tematiche finalizzate all'incendio di boschivi che sono spegnimento AIB, coordinamento, quindi operatori di sala operativa e pattugliamento. Oggi parleremo solo e esclusivamente di sala operativa. Facciamo un focus sul pattugliamento, quindi se c'è qualcuno di voi che vuole dare un contributo per questa attività e delle impressioni su questo, questa è la giornata adatta, perché oggi l'abbiamo chiamato debriefing e focus sulla cartografia. Perché focus sulla cartografia? Perché purtroppo iniziando tardi e facendo un corso a tutti quanti voi molto probabilmente c'è qualche volontario che si è trovato in delle giornate in cui non ha potuto apprendere eccessivamente le attività, cioè molti di voi sono venuti, ora ricordo qualcuno, sono venuti in qualche giornata in cui gli incendi erano zero, perché era piovuto qualche giorno prima e quindi durante le attività di sala operativa non si è interfacciato con determinate situazioni. Una su queste purtroppo è stata proprio la cartografia, non vi abbiamo dato la possibilità in SOAP di aprire i software cartografici, perché a giugno-luglio, quando abbiamo iniziato ad incontrare i volontari per questa formazione, non avevamo il tempo per farvi vedere tutti gli aspetti cartografici, che però poi durante le attività di sala, durante le giornate formative che siete venuti in sala, vi siete resi conto che è un aspetto molto importante. L'avete sicuramente gestito da Synapsi, perché vi abbiamo dato la possibilità di Synapsi ad oggi, di entrare con un account generico, volontari-volontari, poi avrete voi un account per ogni volontario, in modo tale che voi poi potete utilizzare Synapsi pienamente, non solo potendo scrivere soltanto il brogliaccio, ma avrete la possibilità anche di fare analisi cartografiche, chiaramente per quanto riguarda le attività del volontariato. Quindi di conseguenza oggi mi premeva rivedervi, per sicuramente darvi gli attestati, per chi non ha fatto ancora le giornate di SOAP, le verrà a fare nei prossimi giorni, quindi comunque è qui spetta al coordinamento, organizzare la consegna degli attestati a tutti quanti voi. Ma mi premeva fare un debriefing, abbiamo colto l'occasione di questo invito in fiera per farlo oggi, e per avere da voi un feedback. Non vi nascondo che le critiche ci sono state, cioè appunto era quello che dicevo prima, molti volontari sono venuti in SOAP e le attività non erano, diciamo, performanti. Ecco, molti volontari si sono interfacciati con i coordinamenti e i coordinamenti mi hanno segnalato che in particolari giornate i due turni che i volontari hanno fatto in SOAP non sono stati eccessivamente formativi. Questo perché? Per diversi motivi. Uno è sicuramente perché molto probabilmente era piovuto nei giorni passati, e quindi gli interventi da gestire in SOAP erano zero. Primo motivo più importante. Secondo motivo molto importante è coloro che sono venuti dopo il 15 settembre, dopo la chiusura della SOAP. Sappiamo bene che fino al 15 settembre insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri Forestali le attività sono tante. Poi diventa come un on-off. Il 16 settembre sarà coinciso anche con gli aspetti climatologici, ma dal 16 settembre le attività sono andate scemando. E quindi di conseguenza molti volontari che si sono trovati in quel periodo non sono stati eccessivamente formati. E poi può essere anche un problema nostro perché chiaramente in SOAP avendo del personale che turna c'è chi è più propenso a spiegare e fare formazione, ce l'ha più nelle sue corde, fare formazione, piuttosto che altri colleghi che non sono in grado di spiegare le attività che fanno da 12 anni, ma che non hanno quel know-how che serve per insegnare a voi insegnare a voi quello necessario, ciò che è necessario. Ecco perché oggi con Lorenzo rivediamo un po' rivediamo un po' tutto la spiegazione. Tanto mi sentite? Ah ok, perfetto. Non si sente da remoto. Ok. Va bene, ricominciamo da casa. E quindi di conseguenza mi premeva farvi vedere l'aspetto più importante che è quello del coordinamento delle squadre. Ora non possiamo simulare un evento, chiaramente, anche perché è una giornata informativa, ma sicuramente sarà possibile seguire cosa noi facciamo in sala nella gestione cartografica dell'evento. ecco perché tutto quello che è importante dire e chiedere sono le coordinate geografiche e tutte quelle informazioni legate a tutto lo scenario degli incendi. Perché? Perché noi non facciamo soltanto l'individuazione dell'incendio, no, analizziamo l'incendio. Questo vi deve far capire una cosa molto importante, che le figure in sopra non sono soltanto figure legate all'operatore di sala, ma c'è anche una figura che poi avremo e cercheremo di formare che è quello del analista. L'analista che fa tutte queste informazioni che arrivano in sala, le analizza e prende delle decisioni. Queste decisioni che prendono sono a supporto del capoturno capoturno o coordinatore. Questo credo che almeno questo credo che sia stato percepito da voi in sala operativa. Perché tutti quanti voi avete avuto sicuramente le due postazioni di fronte alla vostra vi siete interfacciati sicuramente almeno con due persone che erano il coordinatore e cartografico barra analista. La differenza è sostanziale perché il cartografico non tutti i cartografici sono stati formati per prendere le decisioni per analizzare un incendio. Perché? Perché anche questo è un aspetto su cui dobbiamo migliorare. Appena ha parlato di cartografia e analista è spuntato Lorenzo Natrella e quindi per fortuna è arrivato in tempo. Prego Lorenzo puoi iniziare a già montare qui. Io sto concludendo la premessa. Quindi prima di vedere tutto il concetto tutto l'aspetto della cartografia mi piacerebbe avere da voi un riscontro. Facciamo prima una piccola parentesi sul pattugliamento. Quindi se c'è qualcuno per esempio se c'è qualcuno di Brindisi con cui mi sono interfacciato Giannicola se vuoi intervenire tu sì però mi sa che ti devo dare questo microfono perché sì oppure sì questo in modo tale che vediamo anche l'esperienza del pattugliamento come è stata come è stata percepita da voi e poi da parte vostra se c'è qualche chiarimento su qualche cosa che possiamo migliorare sulla formazione dei volontari in sala. Ok Io spengo Si sente? Ok Noi in base all'esperienza che abbiamo intanto pomeriggio a tutti grazie alla Regione Puglia per questa opportunità l'esperienza che abbiamo fatto quest'anno a Brindisi in sostanza è una replica perché molte delle nostre associazioni prima che nascesse la SOOP e che la Regione si organizzasse per svolgere il servizio tra gli altri di antincendio boschivo molte associazioni parlo della fine degli anni 90 primi anni 2000 stavano diciamo hanno avviato le loro attività proprio svolgendo il pattugliamento in alcune aree sensibili all'epoca non c'erano tutti i mezzi antincendio che abbiamo oggi non c'era l'organizzazione di oggi e quando Lucio nella riunione con i coordinamenti provinciali ha avanzato questa idea di svolgere anche questa attività di pattugliamento che apro e chiudo una parentesi è stata anche un'opportunità per far arrivare diciamo delle risorse economiche alle associazioni che non hanno un mezzo ai B ma che comunque con un mezzo tra virgolette normale hanno potuto svolgere attività antincendio quando Lucio ha proposto questa cosa io sono stato insieme agli altri colleghi e coordinamenti vedo collegato anche Salvatore Bisanti che saluto siamo stati sin da subito a favore perché l'esperienza che avevamo noi è che nelle aree dove nella fine degli anni 90 all'inizio degli anni 2000 si svolgeva il pattugliamento ogni estate più estati si andava avanti e meno erano il numero di incendi che si verificavano perché probabilmente la presenza sul territorio di volontari di ragazzi con i binocoli che all'epoca lo facevano anche senza dispositivi di protezione individuale stiamo parlando diciamo di un periodo molto lontano fungeva da deterrente e noi abbiamo replicato questa esperienza con diciamo l'attività che abbiamo fatto a Brindisi ci siamo fermati un attimo a tavolino per pianificare i percorsi abbiamo interessato tutte le aree di particolare pregio ambientale dalle attività di pattugliamento e abbiamo dislocato le associazioni e le squadre lungo percorsi prestabiliti che non hanno lasciato alcun angolo del territorio della provincia di Brindisi mi rendo conto che parliamo anche di una provincia non molto grande scoperto quindi questa cosa secondo me ha dato i suoi frutti io adesso non ho i dati degli incendi boschivi che quest'anno degli incendi non boschivi degli incendi che quest'anno si sono verificati in provincia di Brindisi però la presenza sul territorio noi poi tra l'altro abbiamo svolto il servizio dalle ore 13 alle ore 19 quindi nelle fasce orarie a più alto diciamo a più alta pericolosità per l'innesco di incendi lo abbiamo svolto anche nelle giornate festive soprattutto nelle giornate di Ferragosto della vigilia di Ferragosto quando la presenza antropica sul territorio aumenta quindi abbiamo fatto un ragionamento di questo di questo genere e le associazioni hanno risposto in maniera molto importante e di questo le ringrazio la regione Puglia e questo è un plauso che faccio ha anche dotato queste associazioni delle minime attrezzature per poter fare quell'attività alcune non ce le avevano quindi sono state attrezzature che sono state veramente propizie quindi l'attività che abbiamo fatto si è svolta tranquillamente nel tutto il mese di agosto fino al 15 di settembre e ci ha permesso di avere una presenza sul territorio in queste ore pomeridiane e il bilancio quanto mi riguarda Lucio poi ovviamente dobbiamo anche guardare i dati è estremamente positivo per questa per questa attività che io auspico venga anche replicata negli anni a venire altra esperienza che abbiamo fatto e concludo che diciamo ha portato anche un importante contributo alla salvaguardia del territorio è stato sono stati dei presidi che tra virgolette ci siamo inventati perché ce li siamo inventati perché quando la regione Puglia ha pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse per la campagna IB in programma vi erano anche i campi operativi gemellati e molte associazioni hanno diciamo nella fase di avvio della manifestazione di interesse fleggato anche la diciamo la possibilità di partecipare ai campi operativi gemellati il covid questo non l'ha più permesso perché i campi operativi gemellati sono stati organizzati in maniera diversa proprio per rispettare le norme anti covid quindi noi ci siamo ritrovati sul territorio delle squadre che avevano dato la disponibilità per un'intera settimana a presidiare e a partecipare al campo operativo ma che di fatto non potevano più farlo e quindi ci siamo un attimo fermati a ragionare e siccome sulla provincia di Brindisi avevamo alcune aree di particolare pregio ambientale nella fattispecie la riserva di Torre Guaceto e la selva di Fasano che diciamo abbisognavano di essere attenzionate abbiamo fatto una verifica anche sulle postazioni Arif la selva di Fasano non aveva postazione Arif la Torre Guaceto invece ce l'aveva solo per una parte della giornata quindi siamo riusciti con queste squadre e queste associazioni che io ringrazio a fare dei presidi di avvistamento e intervento in caso di incendio lo abbiamo fatto per tutto il mese di agosto sia a selva di Fasano che a Torre Guaceto da Torre Guaceto tra l'altro ci siamo presi anche una nota di plauso e di ringraziamento per questa attività perché ovviamente da averla o non averla una squadra di antincendio presente in un'area molto suscettibile molto fragile come Torre Guaceto è chiaro che è importante quindi questa è l'attività che abbiamo fatto io credo di interpretare il pensiero anche dei presidenti delle associazioni che hanno messo a disposizione volontari e mezzi per questa attività che è un'attività che sicuramente va sì perfezionata perché tutte le cose ovviamente vanno migliorate questi debriefing servono anche a questo però è un'attività che sicuramente va replicata grazie allora prima di chiedere a voi qualche domanda e poi dare la parola a Lorenzo che sta ancora smanettando allora i complimenti che ha fatto Torre Guaceto e a tutto il mondo del volontariato e dell'AIB ce li ha fatti anche il dipartimento la Puglia insieme alla Toscana la Sardegna Liguria e Liguria sì facciamo parte di un tavolo tecnico interistituzionale e il dipartimento ha sabato mattina in relazione ad una ad una tavola rotonda che è stata organizzata dal Reas ci ha fatto i complimenti proprio per questo tipo di attività attività che Gianicola ha perfettamente descritto ma sapete bene che è molto complessa e quindi immaginatevi il coordinamento il coordinamento di queste squadre sul territorio deve essere fatto assolutamente da una regia la regia è in sala operativa è in SOAP sicuramente ci faremo aiutare dalle SOT dalle sale operative territoriali però non tutte le province ce l'hanno e comunque in accordo anche se ci dovesse essere così come su Campi Salentina l'interfaccia e il confronto con la SOAP è fondamentale sappiate bene che per realizzare questa attività è necessario sì infatti mi dimentico ok è necessario il confronto il confronto e quindi sapere accettare le critiche le critiche che devono essere costruttive quindi il confronto è fondamentale quindi per tutte queste attività lo sappiamo bene perché i tavoli con i presidenti dei coordinamenti sono stati tanti ma saranno sempre di più tutto ciò che loro ci fanno presente quello che noi riteniamo opportuno fare abbiamo dimostrato spero nell'ultimo anno nell'ultimo periodo di poter rapprendere in questo caso per chi è già venuto in SOAP se c'è qualche riflessione ben vengono quindi in questo momento io non so se da remoto potrebbero intervenire spero di no perché sennò poi diventerebbe troppo lungo non per è una battuta però se c'è qualcuno di voi che vuole intervenire su chi è già venuto in SOAP ha notato ha notato qualche aspetto che possiamo migliorare tipo anche il turno noi gli abbiamo dato la possibilità di fare lo stesso turno che facciamo noi in due giorni di seguito abbiamo immaginato che questa cosa molto probabilmente verrà cambiata l'anno prossimo però verrà cambiata speriamo in meglio per voi quindi molti volontari noi abbiamo 8-20 però sappiamo benissimo che non dovete timbrare il cartellino quindi poi al massimo su questi dettagli ci possiamo coordinare e possiamo ottimizzare le attività per il 2021 se c'è qualche riflessione qualcosa che avete potuto notare oppure se va bene così al massimo le domande tecniche le facciamo dopo l'intervento di Lorenzo e facciamo in conclusione facciamo tutto quanto quindi allora passo la parola a Lorenzo ok ok bellissimo funziona mi sentite sì allora è stata una campagna IB alla fine diciamo intensa come sempre complicata per il covid ma alla fine anche questa volta tutti insieme ce l'abbiamo fatta oggi vediamo un po' di cose che riguardano la gestione dell'evento la gestione di un qualunque evento di protezione civile e soprattutto focalizziamo l'attenzione su quello che è uno degli aspetti fondamentali dell'attività di protezione civile cioè la localizzazione e la contestualizzazione degli eventi noi lavoriamo sul territorio se facessimo i broker finanziari o di assicurazione e quant'altro potremmo stare in qualunque parte del globo e lavorare semplicemente davanti a un computer senza occuparci di quello che poi può avvenire sul territorio invece quello che noi facciamo è sempre strettamente legato al territorio ogni evento in emergenza avviene sul territorio e quindi è importante non solo capire dove avviene ma è importante capire in quale contesto per poter fare questo stando all'interno di una sala operativa e quindi non stando sul territorio noi abbiamo necessità di comunicare di comunicare lo possiamo fare attraverso la radio lo possiamo fare attraverso il telefono lo possiamo fare lo dobbiamo fare anche attraverso le informazioni e i dati cartografici fortunatamente la tecnologia ormai ci mette in condizioni di poter utilizzare queste 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 tecnologie questi strumenti in maniera molto molto semplice fino a 5-10 anni fa il GPS ancora non lo trovavamo così facilmente sui telefonini e quindi riuscire a dare un'informazione precisa di quello che eventualmente stava avvenendo era possibile ma soltanto avendo uno strumento ben identificato la cartografia invece quella diciamo tradizionalmente intesa quindi la cartina è una cosa che ha una storia che nasce dalla preistoria se vogliamo si è evoluta anche quella ma oggi siamo passati e dobbiamo passare dalla cartografia così come intesa alla geomatica cioè a tutti quegli insieme di strumenti che consentono di utilizzare i dati territoriali in maniera molto più dinamica e soprattutto di utilizzare una serie di strumenti che tra loro devono interagire quindi localizzazione in tempo reale dati cartografici inseriti su sistemi digitali banche dati che si interrogano reciprocamente e e si integrano e sistemi che sono in grado di integrare queste informazioni allora se collego un attimo il pc così cominciamo a vedere una giusto hai già fatto un minuto solo sempre sul discorso della formazione analista il discorso della sala operativa colgo un'occasione importante per dirvi che sabato c'è un corso di formazione sulla meteorologia tutti i parametri meteorologici tutti i fattori meteorologici entrano in quel algoritmo che serve all'operatore di sala per fare le sue valutazioni quindi conoscere gli aspetti meteorologici vento precipitazione temperatura umidità e tutto quello che rientra nella meteorologia ci possono servire tantissimo per creare uno scenario più vicino al vero al veritiero per dare poi un supporto al coordinatore questo ve lo dico perché molto probabilmente inizieremo dal mese prossimo a fare formazione una giornata informativa di questo corso la facciamo sabato pomeriggio più o meno un evento come questo poi al massimo vi potete interfacciare con Alma Alma Schiena per registrarvi su questo corso allora nel frattempo che arrivano le immagini vediamo se è arrivata sparita non lo vedo il fatto che Lorenzo sia sempre avanti lo potete notare dalla data è 7 ottobre quindi sappiate che ora cambiamo subito lo tolgo lo tolgo aspetta un attimo che facciamo scusami scusami vediamo se nel frattempo si è collegato al pc in attesa vi faccio verranno presentati sabato nel frattempo posso dire questa cosa verranno presentati sabato però Agnelli Massima i colleghi Pastore e Verdiani hanno già analizzato i dati per quest'anno sono circa 5500 incendi e 10-12% quindi ancora di meno rispetto agli altri anni quindi rientra in una stagione abbastanza nella media ecco per chi era interessato sì sarebbe interessante una volta l'avevo fatto questa valutazione di quante telefonate la sala operativa ha gestito in funzione di quelli 5500 eventi in soli tre mesi avevo fatto una statistica che però è rimasta ferma al 2016 se non sbaglio in cui dal 2010 al 2016 la sala operativa ha gestito 600.000 telefonate quindi un bel numero al netto di quei piccoli problemi che qualche volta ci sono stati che magari con la centrale telefonica o altri problemi per cui qualche giornata o mezza giornata è saltata ma ovviamente parliamo di piccole cose va bene quindi torniamo alla cartografia al gps e a utilizzo della cartografia in emergenza cercherò di essere ovviamente il più telegrafico possibile per fissare dei concetti che vedremo di rendere in maniera molto molto semplice che sono fondamentali dopodichè passeremo agli aspetti anche più più pratici operativi che sono quelli che interessano l'operatore di sala operativa per capire come deve svolgere al meglio il suo ruolo senza dimenticare che però che gran parte della dell'aiuto nella gestione complessiva dell'evento avviene anche dai volontari che sono sul territorio se noi riusciamo a gestire agevolmente un evento è perché riusciamo ad avere chiarezza nelle informazioni che vengono scambiate dal territorio alla sala operativa e dalla sala operativa alle squadre allora la cartografia chiaramente è ha lo scopo di riportare graficamente su un piano le informazioni quando noi facciamo lo schemino collega sul foglietto di carta non ci interessa di stabilire una correlazione matematica tra le dimensioni eccetera la cartografia la cartografia chiaramente ha bisogno di fare questo e quindi deve stabilire delle opportune leggi matematiche per poter rappresentare quello che è il territorio e tutto il globo terrestre su delle su delle carte su delle che ovviamente sono in due dimensioni il prodotto appunto quindi della cartografia è un documento cartaceo che descrive il più possibile vicino alla realtà il territorio ma necessariamente deve utilizzare una simbologia per poter rappresentare tutti quelli che sono gli elementi che sono sul territorio altra approssimazione è necessario definire un modello della della terra la terra non è sferica e soprattutto la superficie della terra non è regolare andiamo dalla fossa delle Marianne al K2 all'Everest quindi abbiamo 16 mila metri di dislivelli delle masse che ovviamente non sono uguali su tutto il territorio sulla terra ma noi abbiamo bisogno per poter riprodurre una situazione di far riferimento a una legge matematica perché la legge matematica ci consente di avere una formula che esprime una figura geometrica nella stessa maniera l'approssimazione più che viene utilizzata per questo è quella di approssimare la superficie terrestre a un elissoide e altro aspetto fondamentale è quello di stabilire le modalità con cui gli oggetti vengono rappresentati quindi una cosiddetta proiezione ce ne sono tante oltre a questo altro concetto fondamentale è quello del sistema di riferimento quindi capire che è un concetto comunque universale per noi ogni volta che parliamo con qualcuno dobbiamo capire avere la stessa consapevolezza di che cosa parliamo e quindi lo stesso riferimento questo vale per le coordinate la cartografia ma vale per qualunque altra altra cosa quindi il riferimento è un concetto fondamentale altrimenti sorgono gli equivoci l'ultima cosa è quella di la superficie della terra due milioni di anni fa era senza l'uomo fortunatamente aveva una forma oggi l'uomo ci costruisce sopra qualunque cosa modifica il territorio e quindi l'ultima cosa che bisogna fare è anche di rappresentare gli oggetti che non sono oggetti naturali montagne laghi eccetera ma sono oggetti costruiti dall'uomo vedete in questa immagine c'è la torre di controllo dell'aeroporto altro aspetto fondamentale che bisogna conoscere e tenere in considerazione è il rapporto di scala quando devo necessariamente rappresentare su una carta da un oggetto reale devo necessariamente stabilire una legge che mi va a correlare parliamo di di distanze in questo caso di misure di dimensioni quello che è nella realtà con quello che è sulla carta che è abbastanza limitato e questa viene definita il rapporto tra la distanza nella realtà e quella riportata sulla carta viene definita scala le cartografie a disposizione proprio perché rappresentano una porzione di territorio ognuna ad ognuna è attribuito un fattore di scala notoriamente abbiamo delle cartografie che poi vengono classificate appunto in funzione di questa scala le cartografie più più comuni sono quelle che noi utilizziamo ovviamente sono le carte topografiche che hanno una scala al 25.000 al 50.000 o al 100.000 ma ovviamente anche al 10.000 e al 5.000 vedremo però che con l'utilizzo della cartografia digitale questa rigida organizzazione può essere anche superata questo significa che un un punto un una dimensione misurata sulla sulla carta che può essere un millimetro nella realtà equivale a 25.000 millimetri quindi un centimetro equivale a 250 metri nel caso di una cartografia al 25.000 a 500 metri nel caso di una cartografia a 50.000 a 50.000 e a 1000 metri nel caso di una cartografia 1 a 100.000 il rapporto di scala è fondamentale nelle nelle si dice questa scala questa rappresentazione è a grande scala o a piccola scala maggiore è il denominatore più piccola è la scala in questo caso qual è la quella più piccola scala o più grande scala vedete sotto che quella a sinistra è 1 a 8 milioni e quella a destra è 1 a 4 milioni quindi questa qui è a piccola scala una rappresentazione a piccola scala e questa qui è una rappresentazione a grande scala sono andato indietro ok ora classificazione delle cartografie questa con la cartografia tradizionale è importante capire che tipo di carta stiamo utilizzando e a quale scala come vi dicevo prima le carte topografiche vanno da una scala che va da 1 a 10 mila fino a 1 a 150 mila poi abbiamo le carte coreografiche le carte geografiche la porzione di territorio in funzione della scala vedete qui cambia notevolmente e cambia notevolmente anche il grado di informazione che noi riusciamo a tirare fuori abbiamo anche addirittura le immagini tele rilevate da satellite che possono avere una scala di 1 a 30 milioni e così via oltre a questo una cosa su cui dobbiamo fare molta attenzione se usiamo le cartografie tradizionali è che quando ci troviamo su un territorio che ha un'orografia abbastanza complicata montuosa eccetera se noi andiamo a misurare la distanza di due punti quella distanza non è la distanza reale nel senso che se noi dovessimo andare dal punto se noi dovessimo misurare la distanza tra il punto A e il punto B quella è una distanza lineare proiettata ma se noi dovessimo decidere di andare in escursione e stare in montagna e dovessimo andare dal punto A al punto B anziché fare mille 3.000 metri di strada ne dovremmo fare 3.100 quasi ok quindi attenzione diciamo quando si misurano queste distanze oggi è molto probabile che queste cose riusciamo a farle in maniera molto più semplice con una cartografia digitale però è importante comunque queste cose saperle anche perché quando c'è un intervento su un territorio come può essere quello del Gargano lo vediamo qual è la differenza di raggiungere un punto dopo un avvistamento se siamo sul Gargano o se siamo in Capitanata oppure giù nel Salento attenzione c'è anche in questo che ho detto c'è discorso anche delle strade chiaramente che diciamo non 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 seguono lo stesso ragionamento purtroppo il punto i due due punti il punto di osservazione e il punto di avvistamento chiaramente non sono mai legati da una strada che li percorre in maniera diretta per cui entriamo nel discorso dei tempi sulle carte ovviamente ci sono una serie di simboli che voi trovate normalmente se usate una carta IGM li trovate in basso e dove sono appunto rappresentate tutti gli elementi della che sono presenti sulla carta in questo caso le strade le ferrovie ogni elemento è rappresentato da un simbolo la linea nera più spessa quella tratteggiata bianco-nera quella puntinata e così via ovviamente accanto c'è la descrizione di quello che che è il significato di quel simbolo e così via una serie di altri simboli il tabernacolo la chiesa eccetera le carte queste sono diciamo delle simbologie di carte un po' più più vecchie ma la simbologia può riguardare anche i colori vedete in questo in questo caso a parte la leggenda a sinistra ma già è abbastanza intuitivo capire che questa questa cartografia riporta le zone più montuose con una colorazione più più scura più marrone e quelle più pianeggianti con una colorazione più verde fino a finire alle zone di mare che che sono in in celeste questa è una simbologia di cartografie un po' più recenti vedete che sono già un po' più gradevoli da vedere con dei segni più più da cristiani ok l'altro aspetto importante è riuscire a leggere una carta attraverso le curve di livello sulla cartografia digitale questo è molto semplice perché muovendo il mouse è possibile individuare immediatamente qual è l'altimetria e quindi ogni punto è associato ad una quota sulle cartografie cartacee l'altimetria è rappresentata attraverso le curve di livello come si costruiscono queste curve di livello curve di livello o anche ISO-IPS ogni curva di livello rappresenta una quota e seguendo senza staccare il dito dalla linea che rappresenta quella quota tutti quei punti su quella quota sono alla stessa tutti quei punti sulla linea sono alla stessa quota come si realizzano immaginate di avere il territorio e tagliarlo a fette con dei piani ok la proiezione di questi piani sulla carta rappresenta va a delineare queste linee che sono appunto le linee le curve di livello ogni per chiaramente facilitare la lettura vedete questi numeri che rappresentano la quota di questa linea in questo caso non so se si vede anche il mouse sì allora questa linea qui è la linea ad esempio a 350 metri se io questa linea la percorro e non lascio il mouse da questa linea tutti questi punti hanno una quota di 350 metri che cosa rappresentano però queste queste curve della linea della ISO-IPSA rappresentano il territorio il cambiamento della dell'orografia del territorio soprattutto in una zona di montuosa ci possono essere dei promontori dei versanti degli impluvi dei displuvi e quindi anche questi vanno rappresentati la cosa importante è che è individuare la linea di massima pendenza che è praticamente una linea che congiunge le linee di le curve di livello in maniera ortogonale quella è la linea di massima pendenza la potete vedere in questo caso è dove la linea che unisce questi questi punti su una curva di livello con quella successiva è appunto detta linea di massima pendenza su una cartografia del genere tra l'altro a questo livello diciamo di rappresentazione diventa piuttosto difficile riuscire a avere un dettaglio di quello che è il territorio in questo caso riuscite sicuramente a capire riusciamo sicuramente a capire che si tratta di un territorio piuttosto montuoso dove c'è in alto a sinistra una zona urbana abitata e dove ci possono essere anche delle ulteriori informazioni ad esempio queste linee dritte che ci sono qui e anche qui abbiamo necessità di però capire che cosa ci può essere su questo territorio sì ci possono essere degli edifici ci possono essere delle zone montuose ma per esempio dobbiamo capire se ci sono degli impianti delle infrastrutture se ci sono delle dei boschi dell'area pascola eccetera con questo tipo di rappresentazione diventa piuttosto difficile e allora c'è un altro tipo di rappresentazione della cartografia che che sono le ortofoto in pratica le ortofoto sono delle foto che vengono scattate ad una certa quota costante sul territorio da una fotocamera particolare che scatta in sequenza una serie di foto che poi vengono elaborate per realizzare appunto una 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 ortofoto cioè una fotografia del territorio orto-rettificata e georeferenziata da un ortofoto questa qui che vedete è la stessa è lo stesso territorio che vedevate prima ma sicuramente si riescono a individuare delle informazioni maggiori già riuscite a vedere in maniera abbastanza agevole che questa zona è una zona boscata che ci sono delle radure delle zone non boscate che c'è un'area urbanizzata che ci sono che c'è un territorio anche di campagna ricco di edifici di insediamenti e che ci sono delle strade quello che però riuscite più difficilmente a leggere invece è proprio l'orografia del territorio perché non riusciamo a capire qui ad esempio quale può essere un dislivello forse riusciamo a immaginare che c'è un dislivello ma sicuramente non riusciamo a capire quanto può essere questo dislivello andando a fare una una zoomata sempre in questa zona riusciamo già a leggere a livello simbolico degli elementi in più e quindi riusciamo a capire che per esempio questa zona qui considerando il significato che hanno le curve di livello questa zona qui è una zona dove c'è un'area pianeggiante mentre riusciamo a leggere molto bene che le curve di livello più sono ravvicinate e più rappresentano la clività del terreno addirittura quando c'è quando ci sono delle pareti quasi verticali la rappresentazione è fatta in questa maniera con questi questi puntini che in gergo vengono detti barbetta proprio per stare ad indicare che lì non è più possibile mettere delle linee altrimenti sarebbero praticamente quasi sovrapposte e quindi si usa quella simbologia per comunicare che lì c'è una situazione diciamo di acclività estrema quasi verticale la stessa rappresentazione con l'ortofoto ci aiuta ulteriormente e ci fa leggere ad esempio questi questi segni che ci sono che potrebbero essere delle delle linee frangifuoco ma probabilmente no perché se andiamo ad associare la cartografia precedente e andiamo a vedere la simbologia riusciamo a capire che queste linee rappartengono ad una ad una linea elettrica di alta tensione e che quindi quelle che noi vediamo sono praticamente le fasce le si sono le fasce disboscate hanno un nome particolare in questo momento non me lo sto ricordando dove praticamente viene per motivi di sicurezza viene eliminata tutta la vegetazione perché potrebbe innescare degli incendi questo è un diciamo un problema che l'eterna è nel spesso anno soprattutto nell'area protetta dove devono andare a fare a ripulire frequentemente a distanza di qualche anno la vegetazione che chiaramente poi riprende in quei in quei punti e che in alcuni casi sono stati invece gli elementi che sono che hanno consentito invece di di bloccare il il fuoco ulteriore zoom su quella su quella carta ulteriore informazioni addirittura adesso riusciamo a leggere direttamente quello che c'è scritto sopra in questo caso c'è un toponimo la fabbrichetta quest'altro rasga e qui c'è un k.20 che sono i cippi chilometrici presenti su ogni cartografia di tipo igm anche in questo caso andiamo a a vedere anche il tipo di rappresentazione fatto con un'ortofoto dove riusciamo a leggere ulteriori informazioni sempre della stessa zona rappresentata in questo caso le curve di livello in questo caso si vede sulla parte destra qui che questa curva che è quasi che è tondeggiante rappresenta una cima su cui è indicata anche la quota quella rossa è invece una linea di massima pendenza dove appunto questa linea è esattamente ortogonale alle curve di livello anche in questo caso ulteriore informazione da parte della dell'ortofoto allora come si individuano meglio questi simboli sul territorio facendo il confronto con un ortofoto un ortofoto che in questo caso è stata poggiata su un modello digitale del terreno che è più facilmente leggibile capite immediatamente che qui ci troviamo di fronte probabilmente la zona del Gargano ad un versante del promontorio del Gargano e in una zona in cui c'è appunto questo 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 impluvio diciamo così questa situazione qui che sull'ortofoto è abbastanza facilmente leggibile su una cartografia tradizionale con le curve di livello viene rappresentata in questo modo ci viene in aiuto sicuramente l'indicazione della quota di ogni curva di livello stessa cosa per il contrario quindi per il displuvio cioè per questa situazione che vedete a sinistra le curve di livello vengono rappresentate in questo modo l'avevamo detto prima curve di livello molto ravvicinate tra loro indicano un terreno molto ripido in questa situazione invece ci sono una serie di impluvi e displuvi questo ovviamente è una è uno zoom del particolare nella nella lettura della carta è necessario comunque avere l'indicazione delle quote per capire meglio quello che abbiamo visto prima una conca o una depressione e a destra abbiamo invece una cima la conca o depressione o quelle che sono molto comuni nel nostro territorio le doline sono rappresentate da queste curve concentriche dove andando verso il centro il la quota si riduce e quindi capiamo in maniera abbastanza immediata che si tratta di una di una dolina o di una depressione a destra invece è il contrario si tratta di una cima allora il fatto che la terra chiaramente non è perfettamente sferica credo che è un dato acclarato da tutti il fatto che è necessario associare una figura geometrica di approssimazione credo che sia un altro fatto abbastanza acclarato e il motivo l'abbiamo detto prima perché attraverso una formula matematica deve essere riproducibile l'ultima cosa è quella di rappresentare trovare un metodo per rappresentare il globo la superficie terrestre su una carta oltre all'elissoide quindi questa superficie matematica che mi serve per individuare i punti sulla terra è necessario individuare anche un'altra un altro concetto che è quello del geoide il geoide è una superficie equipotenziale che sostanzialmente passa al di sotto delle montagne eccetera e segue idealmente la superficie del mare è una superficie equipotenziale perché lo vedete in questa immagine è una superficie cioè il geoide è una superficie perpendicolare in ogni punto alla direzione della forza di gravità è un concetto diciamo fondamentale che è strettamente legato poi alla individuazione di quella che è l'origine e il riferimento per dove vogliamo arrivare vogliamo arrivare semplicemente a capire un po' meglio quando parliamo di coordinate da da dove nascono queste coordinate perché sappiamo bene che le coordinate che noi utilizziamo sono di diversi di diverso tipo e quindi fanno riferimento a dei riferimenti diversi allora per praticamente arrivare a questa rappresentazione e per arrivare a ottenere questi due numeri che individuano ogni punto sul globo terrestre è necessario individuare un datum cioè un sistema geodetico di riferimento che consente appunto di definire ogni punto sulla superficie terrestre questa operazione si chiama georeferenzazione e per che è quindi appunto l'associazione tra ogni punto ogni elemento sulla terra e la sua rappresentazione l'elissoide di riferimento viene usato per per come riferimento planimetrico mentre il geode è utilizzato per il riferimento altimetrico ok in realtà noi parliamo di due numeri che ci consentono di individuare qualunque punto sulla terra ma in realtà come ben sapete c'è anche un'informazione importante perché sì io ho le due coordinate che mi individuano un punto sulla terra ma io potrei essere sulla superficie del mare o sull'Everest il che cambia notevolmente allora vediamo di ehm di chiudere questa parte che può essere un po' complicata ehm un po' un po' noiosa magari per dire semplicemente questo che sostanzialmente per la rappresentazione cartografica io ho bisogno di un sistema di riferimento un sistema di coordinate ed un ehm ed una proiezione ok questi sono i tre aspetti fondamentali con i quali noi riusciamo a rappresentare il territorio in maniera attraverso la cartografia ora di sistemi di coordinate di ehm sistemi di proiezione ce ne sono stati nel tempo tantissimi e ce ne sono tantissimi se voi prendete un GPS di quelli cartografici di quelli da Outdoor e andate nelle configurazioni vi rendete conto che eh i sistemi di riferimento sono tantissimi c'è quello svizzero austriaco sloveno ma ce ne sono a centinaia quello che eh è individuato come sistema internazionale è quello che utilizza il datum World Geodetic System 1984 che è l'anno in cui è stato realizzato e che è un sistema geografico internazionale e utilizza un sistema di riferimento geocentrico e un sistema di coordinate in gradi minuti e eh gradi minuti secondi o gradi e decimali che adesso eh vedremo anche come è stato possibile realizzare questo eh il globo terrestre è stato diviso in in eh in 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 gradi quindi considerando la superficie dell'equatore come superficie di riferimento e andando verso il polo nord e verso il polo sud abbiamo un'escursione di 90 gradi eh a nord e 90 gradi a sud ogni grado rappresenta una distanza che di circa 111 chilometri questo per quanto riguarda quella che si chiama latitudine la latitudine quindi è un angolo un angolo che rappresenta la congiungente del centro della terra che è il nostro riferimento con il punto sulla superficie terrestre queste ehm questi piani che tagliano quindi idealmente la la terra in questa maniera rappresentano i cosiddetti paralleli che sono queste linee che poi vengono fuori da questo ideale taglio altro riferimento invece è il piano passante è il piano che invece va a tagliare in maniera verticale sempre il globo terrestre di cui si assume come riferimento un piano che è quello passante per Greenwich a sua volta ogni ogni grado ogni ognuno di questi piani rappresenta un grado e per fare il giro completo della terra ce ne sono 360 allora se parliamo di gradi diciamo che sostanzialmente che ogni punto sulla terra in questo caso il punto p è rappresentato attraverso la distanza angolare del piano di riferimento con il punto individuato e abbiamo bisogno di due punti quindi uno è quello della latitudine quindi a partire dal piano che passa per l'equatore andare verso su o verso giù e l'altro è quello che si discosta dal piano passante per Greenwich in direzione diciamo così verso destra o verso sinistra e va a individuare un altro angolo quindi le coordinate geografiche fanno riferimento a questa situazione e sostanzialmente sono rappresentate da angoli in questa in questa foto si vede un po' meglio un altro tipo di rappresentazione invece è quella questo è l'osservatorio astronomico di Greenwich dove c'è appunto il segno da cui idealmente passa questo meridiano sarebbe il nostro riferimento un'altra rappresentazione che serve un'altra modalità che serve a rappresentare il territorio è quella che utilizza una proiezione diversa è quella cilindrica di Mercatore idealmente viene come dite immaginate di mettere un foglio che si richiude intorno alla terra e di stabilire il centro di proiezione al centro della terra una volta fatta questa proiezione prendete il foglio lo aprite e avrete una rappresentazione della della terra fatta in questa maniera dopodiché questo grandissimo rettangolo viene suddiviso in spicchi dell'ampiezza di 6 gradi e in fasce dell'ampiezza di 8 gradi ogni fascia viene numerata con una lettera che è qui accanto e gli spicchi invece sono numerati da 0 a 60 ogni incrocio fatto in questa maniera di questo reticolato che viene chiamato reticolato chilometrico rappresenta una un'area una zona il nostro riferimento in questo caso è il meridiano passante per Greenwich quindi come come 0 è l'equatore ok in questo caso però avendo una misura quindi questo rettangolo le coordinate diventano metriche perché anziché misurare degli angoli noi stiamo misurando una volta che abbiamo riportato il territorio attraverso questa proiezione su una su un foglio immaginate enorme e suddiviso in questa maniera noi possiamo poi stabilire una correlazione però utilizzando anziché degli angoli utilizzando delle distanze quindi dei metri ok allora andiamo velocemente velocemente avanti perché diciamo quello che mi preme farvi il punto a cui dobbiamo arrivare è la lettura delle carte e l'utilizzo delle coordinate allora questa è una carta IGM in realtà si chiama tavoletta IGM è un 25000 e avete visto prima sul reticolato ogni quadratino di quel reticolato rappresenta una zona quella zona viene a sua volta suddivisa in quattro quadranti e ogni quadrante viene diviso in quattro tavolette alla fine tutte quelle informazioni che noi abbiamo detto all'inizio a livello di rappresentazione vengono riportate su questa tavola IGM su cui vengono riportate sia i riferimenti metrici sia i riferimenti angolari per cui qui sopra voi potreste potete individuare ogni punto sia in coordinate geografiche sia in coordinate UTM quindi in coordinate metriche ecco questo è quello che vi dicevo prima le zone vengono suddivisi in fogli i fogli in quadranti i quadranti in tavolette sulle carte IGM voi trovate la numerazione del foglio con le altre indicazioni che vi consentono poi di individuare la zona la nostra zona ad esempio è la 33T se andiamo qui vedete immaginate questo foglio enorme la T è questa qui e la 33 è questa e quindi va a individuare quel quadrato quel quadrante che si chiama zona ok allora una volta che abbiamo stabilito questa correlazione attraverso la cartografia di ogni punto sul globo terrestre dobbiamo trovare uno strumento in grado di di farci di darci questa informazione nel momento in cui noi non abbiamo una una carta allora in aiuto ci viene lo strumento il famoso strumento gps che noi ormai comunemente abbiamo imparato a a capire più o meno di che cosa si tratta in realtà il gps sta per global positioning system in realtà non è un il nome del sistema ma è un nome il nome proprio il nome proprio del sistema navstar che la gli stati uniti hanno messo in orbita attraverso un sistema di satelliti che girano posizionati intorno alla terra a 36.000 km dalla terra questo sistema gps è molto molto simile ad altri sistemi che poi nel tempo sono stati realizzati dalla Russia dall'Europa dall'India dalla Cina eccetera che vanno sotto il nome di GLONASS Beidou Galileo eccetera tutti questi sistemi sono in grado di attraverso un ricevitore gps che voi trovate ormai su tutti gli smartphone sono in grado di darci quei famosi due numeretti che servono a collocare un elemento sul territorio ecco quelli che vi dicevo prima sono tutti gli altri sistemi che nel frattempo Navix bus eccetera eccetera che sono stati realizzati da altri da altri stati quello che a noi interessa è come funziona il gps ma non perché ci interessa sapere come funziona ma perché dobbiamo evitare gli errori che spesso accadono e che ci fanno che ci creano grossi problemi nell'individuazione dei punti allora il gps è un un ricevitore che riceve delle informazioni informazioni che costantemente questi satelliti qualunque si siano quello americano così come quello russo eccetera danno costantemente delle informazioni quelle sul che sono qui dentro o sui gps da outdoor eccetera sono semplicemente dei ricevitori che ricevono queste informazioni qual è il principio attraverso il quale queste informazioni poi vengono trasformate in in punti è il principio della triangolazione se io volessi calcolare la distanza di un punto in questa stanza basta che ho un riferimento ritorniamo al concetto del riferimento quindi ad esempio la misura di questa scrivania e poi da qui vado per triangolazione a misurare da due punti diversi uno stesso punto avendo questa distanza nota con una misura di angoli o con una misura di tempi posso riuscire a stabilire la distanza di qualunque punto all'interno di questa di questa stanza la stessa cosa è quello che avviene nello spazio e sulla terra questi ricevitori ricevono delle informazioni di tempi su ognuno di questi satelliti è installato un orologio atomico che ha una precisione di 10 alla meno 13 secondi cioè significa che perde un secondo ogni miliardo di anni e quindi è una precisione estrema perché ci serve questa precisione estrema perché ci consente di calcolare delle distanze attraverso il tempo che il segnale impiega a percorrere la distanza tra il satellite e il ricevitore in pratica analizzando il l'informazione che viene da più satelliti di cui è nota la loro distanza il ricevitore interroga ogni satellite che gli manda questa informazione all'interno lui ovviamente ha un algoritmo che consente di calcolare queste distanze e alla fine queste distanze da questo sistema che è rigido consentono di rappresentare il punto sulla sulla terra quali qual è quali sono i problemi che più spesso con cui più spesso abbiamo a che fare allora uno dei problemi che spesso si presenta è che le coordinate non sono affidabili cioè non rappresentano esattamente il punto dove noi ci troviamo questo perché il ricevitore poiché ognuno di questi apparecchi è venduto in tutto il mondo il ricevitore ovviamente non sa dove si trova per poterlo sapere ha bisogno di cominciare a interrogare i satelliti e cominciare a capire più o meno dove si trova e fare una serie di elaborazioni matematiche questa questa cosa viene fatta costantemente ma nel momento in cui il ricevitore viene diciamo è acceso e rimane acceso questa cosa ha una continuità nel momento in cui il ricevitore del 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 telefono piuttosto che il gps viene acceso all'istante la individuazione del punto non è istantanea questo avviene anche quando il ricevitore perde anche se è acceso ma perde il segnale perché è fondamentale che questi strumenti guardino il cielo sempre per poter per poter individuare il punto in maniera corretta e affidabile un altro dei problemi è deriva dal fatto di quanti quanti satelliti vengono vengono visti e che posizione hanno rispetto a noi allora se la posizione dei satelliti è come in questo caso ben distribuita diciamo così allora io otterrò un segnale molto affidabile se la posizione dei satelliti è molto ravvicinata e quindi ho degli angoli molto molto ristretti la la precisione del punto sarà meno affidabile ecco perché da quando sono entrati in esercizio anche le altre costellazioni quindi il GLONAS Galileo il BEI-2 eccetera molti di questi dispositivi hanno accesso anche agli altri satelliti perché ci possono essere situazioni in cui soltanto la costellazione dei dei GPS americani non consentiva di ottenere un punto con una precisione accettabile aggiungendo più satelliti quindi le altre costellazioni questo ci consente di avere una precisione maggiore in questa slide voi vedete quali sono le differenti precisioni e il motivo per cui ci può essere una minore o maggiore precisione e sono indicati con questi codici il VDOP è la praticamente diluizione verticale della precisione cioè misura la degradazione del segnale in direzione verticale poi c'è la degradazione del segnale in direzione orizzontale eccetera eccetera quella che spesso alcune applicazioni anche su smartphone ma sicuramente sui GPS portatili questa nella nella borsa poi ve lo faccio vedere è come riferimento è la GDOP cioè quella che misura la degradazione della posizione in nello spazio che questa che può essere dovuta anche al punto in cui ci troviamo se stiamo all'interno di una di una vallata o all'interno di una città il segnale spesso viene perso o comunque poiché il numero minimo di satelliti per fare un punto affidabile è 4 se io ne perdo uno perché c'è un palazzo davanti quella 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 precisione viene meno allora questo è il motivo per cui quando noi comunichiamo o ci comunicano delle coordinate dobbiamo sempre essere sicuri che il nostro GPS sia ci stia dando un'informazione affidabile come possiamo fare questa cosa sugli 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 smartphone ormai praticamente parliamo soltanto di smartphone tutti voi avete un'applicazione che è quella di google map quando dovete comunicare una una coordinata potete utilizzare delle applicazioni e vedremo adesso quali sono le applicazioni che è meglio utilizzare anche perché è importante standardizzare le modalità con cui noi comunichiamo queste informazioni allora un attimo che arriviamo allora se voi attivate sul sul telefonino google map lui individua immediatamente il punto in cui voi siete ok in questo caso ovviamente quello sul pc non lo fa ma immaginate che noi siamo qui adesso nella nella fiera e che quindi il telefonino immediatamente si va a posizionare se riceve correttamente i i satelliti si posiziona vi fa vedere il puntino quello azzurro nel caso in cui il vostro il vostro cellulare non ha la possibilità di ricevere i segnali avrete un disco intorno a quel punto piuttosto piuttosto grande in quel caso anche se voi attivate una l'applicazione che vi dà le coordinate avrete un avrete delle coordinate che non sono affidabili è importantissimo questo perché è capitato e capita spesso di comunicare in sala operativa delle coordinate che fanno riferimento a un altro punto al punto dove eravamo ieri sera al punto dove eravamo stamattina e che ingenuamente magari vengono comunicate e spesso e volentieri l'operatore in sala operativa magari perché c'è un evento in corso e non ha non c'è il tempo di fare una verifica a meno che la coordinata non è assolutamente sballata per cui viene comunicata la coordinata del Salento ma noi stiamo lavorando su un incendio sul Gargano e allora in quel caso è abbastanza evidente però non è questo perché questo è facilmente individuabile quello che è importante invece sono quelli piccoli errori di pochi chilometri o poche centinaia di metri che sono quelli che invece sono estremamente forvianti e pericolosi perché dare un'informazione a un chilometro due chilometri che può essere diciamo relativamente vicina è invece abbastanza forviante rispetto all'individuazione a volte di eventi che sono anche abbastanza vicini ma che in realtà sono due cose diverse ecco perché è fondamentale comunicare le coordinate nella maniera più affidabile possibile il fatto di attivare l'applicazione Google Map che vi fa vedere realmente dove siete può essere un escamotage per poter comunicare delle informazioni in maniera più affidabile allora altro aspetto quindi di cui tenere conto è che abbiamo detto il GPS deve essere sempre rivolto verso il cielo quindi anche il telefonino non deve stare diciamo in tasca deve essere acceso deve essere sempre acceso molti attivano il GPS un po' di anni fa c'erano problemi di di consumo di batteria perché i GPS consumavano molta batteria e si tendeva a tenere gli spenti oggi le batterie sono migliorate anche il consumo della della corrente elettrica dell'energia elettrica della batteria è migliorata e quindi soprattutto quando noi siamo in operazioni è importante attivare il GPS e tenerlo attivato finché almeno finché l'operazione non è conclusa questo ci dà la possibilità di comunicare in maniera più veloce le informazioni in maniera più affidabile quindi nel caso invece il GPS o il telefono stesso è spento bisogna assicurarsi di accenderlo almeno 10-15 minuti prima di comunicare queste coordinate non è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.